buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale sono appena rientrato nel parcheggio di casa mia è appena finita la sfida dello stadio brianteo tra monza e brescia conclusa con il punteggio di 1 a 1 per il brescia se non sbaglio dimitri bisoli per il monza il gol di osè macin il macio mamma mia mamma mia un'altra serata un'altra serata guardate non vado su in casa perché se no se no mi scende giù tutto il condominio e non ho voglia di non ho voglia di discutere con nessuno e niente nel primo tempo primo tempo finito 0 a 0 ma sul possesso palla sulla manovra di gioco meglio loro occasioni ne abbiamo avute noi ci ha provato col pani le occasioni le abbiamo avute nel primo tempo però dovevamo fare qualcosa di più poi va bene il primo tempo c'è l'albitro marinelli veramente andrebbe radiato se se c'è qualcuno in ascolto che ne so laia la figgc va veramente va veramente radiato va veramente radiato perché perché veramente le rimesse erano nostre gliele dava loro falli nettissimi bloccaggi sui nostri falli e tutto e non fischiava cartellini solo a noi che tra l'altro ci ha munito carlos quando si stava accendendo la rissa ci ha munito il carlos augusto che sarà diffidato a frosinone lunedì prossimo alle 15 allo stadio stirpe poi va bene nel secondo tempo ci abbiamo provato diciamo che ci ha provato anche il brescia siamo rimasti in piedi grazie alle parate di di gregorio c'è veramente se guardate alcuni miei vecchi video dove dico bisogna fare una statua a san michele di gregorio fuori dal brianteo facciamo questa statua a san michele di gregorio vi prego vi prego vi sto perdendo la voce perché perché per il monza questo e l'altro però bisogna fare assolutamente una statua a san michele di gregorio l'uomo digre e perché non è possibile perché non è possibile non è assolutamente possibile che dobbiamo subire così tanto e deve deve salvare deve salvare il di dietro il fondo schiena deve salvarcelo michele di gregorio con le sue parate e poi cambio signori non ce la fa più mattia valoti entra joseppe pin di combo macin detto per noi per voi il macio e fa un gol tipo quello con il comode il 3 a 2 in casa splendido prende la palla si accentra e la mette sotto la traversa splendido il macio una partita poi di lì in poi per il macio orrenda orrenda ma il macio è così fa il gol fa il gol splendido il gol della serata e poi poi sparisce serie di errori e quant'altro e poi dopo ovviamente barbaris è scandaloso ma io non ho capito i cambi io non ho capito i cambi io voglio sentire io voglio sentire perché perché ci siamo ritrovati con dentro con dentro gitkier mancuso ciurria gitkier mancuso ciurria e danni mota nello stesso momento perché ha tolto barbaris no ma non perché barbaris perché ha tolto un centrocampista in questo caso barbaris per mettere mancuso mancuso non c'entra niente mancuso non c'entra niente un estraneo mancuso mancuso è un giocatore estraneo mancuso è un giocatore estraneo al monza basta basta siamo lenti siamo macchinosi sempre sto gioco sempre se palle l'indietro sempre sti errori alla fine cosa è successo palle in mezzo e ha segnato bisoli numero 25 del brescia bisoli io non lo so io non lo so qua sono due punti buttati via qua sono due punti buttati via e vi ripeto che sono qui in macchina nel parcheggio di casa mia perché se vado su faccio tremare il condominio faccio tremare il condominio perché sono due punti buttati via mannaggia sono due punti buttati via abbiamo buttato via due punti gli abbiamo regalato due punti al brescia che si sul piano del possesso del gioco non ha fatto male però però c'è dovevamo chiuderla dovevamo chiuderla dovevamo chiuderla e invece abbiamo sbagliato cose semplici abbiamo sbagliato le cose semplici cioè ciurria male barberis male mancuso è entrato male volete sapere chi è il migliore in campo secondo me san michele di gregorio l'uomo di gre punto il portiere il nostro portiere san michele di gregorio san michele di gregorio perché perché è stato lui a salvarci il risultato perché perché non è non è possibile fare sempre lo stesso gioco che si passano la palla che continuano che continuano a darla lì indietro ciurria che addirittura spalle alla porta di joronen spalle alla porta del portiere del breccia ma non lo so vabbè vabbè dai poi vabbè lì allo stadio brianteo quelli davanti che si giravano tra cui uno vabbè era mio padre e stiamo giocando male male tutto non lo so non lo so non lo so ho sentito anche gente che mi diceva quando sono i play off ce le hai le date dei play off perché perché così perché così perché ogni volta ogni volta ma ma fa più rabbia perché sono due punti buttati via perché siamo passati in vantaggio e gli abbiamo regalato e gli abbiamo regalato il pareggio a bisoli gli abbiamo regalato il pareggio guarda io io non ho più voce sto 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 veramente morendo di caldo con la giacca fa veramente caldo quindi niente testa la partita di lunedì prossima alle 15 allo stadio benito stirpe di frosinone io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni del pareggio casalingo del brianteo per uno a uno tra monza e brescia iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video e sempre forza monza dai bagai